Andiamo Andrea, ciao Astrid, ragazzi divertitevi ci sentiamo no vado perché devo fare due cose va bene poi quando vuoi uscire la sera ma lui mi ha detto che abita qua adesso eh no è qua a Vorgona no a Timoline o quando voglio che esce lui ciao hai visto i piccoli hai visto che belli però i piccoli si fanno prendere si e i grandi quelli no quasi andiamo Andrea grazie 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 grazie